Croce Rosa di Rosa Iacono, problema di infermieri. Mancano gli infermieri, mancano i volontari in questo momento in cui il Covid sta un po' raccogliendo tutte le forze di lavoro. Allora Rosa, un problema grave? È un problema gravissimo, perché se non riusciamo a reperire qualche infermiere di buona volontà, io devo buttare la spugna. E buttando la spugna si perde un grande servizio sociale sul territorio isolano. Quindi Rosa, in effetti tu chiedi sensibilità, se ci sono delle persone che possono fare questo servizio di infermieri, ti debbano chiamare e in effetti possono fare esperienza e possono anche in pensione offrire il loro servizio. No, se c'è un infermiere che sta in pensione, che ha ancora voglia e salute di fare qualcosa, è vero che noi abbiamo questa epidemia, però noi abbiamo tutti i presidi affinché una persona sia tutelata. Quanti infermieri ti servono? Per lo meno, il minimo sono cinque, cinque infermieri. Venendo cinque infermieri, anche facendo i turni di dodici ore, una persona che dice che è andata in pensione, eccetera, riusciamo a superire il servizio e tante cose. Per concludere il tuo messaggio finale? Per concludere il mio messaggio finale, io vi chiedo aiuto, come voi mi avete chiesto aiuto a me tante volte, voi lo sapete le battaglie che io ho fatto, questo servizio non vorrei buttare la spugna, perché nel momento in cui ho buttato la spugna, l'isola Penzo, non lo dico io, ma lo dicono tante persone, che perde tantissimo. Io questo non lo vorrei che si verificasse, un appello anche a tutti i sindaci che si impegnassero presso le scuole infermeristici dove fanno gli esami da poter far venire qualche ragazzo che vuole fare anche l'esperienza, che non ha momentaneamente il lavoro, che non ha vinto un concorso, non ha vinto nessuno. Voglio essere anche aiutato da loro e lo voglio far capire e sapere anche a tutti i sindaci di questo problema che la Croce Rosa in questo momento sta attraversando, che se vengo aiutata è solo un momento di ma poi va tutto bene.